Ehi là, è permesso? No! Che botta tremenda! Si è fatto male? Non ho visto il gradino traditore! È Cristiano Gardini, mi sono permesso di invitarlo per il weekend! Hai fatto benissimo! Adoro suo padre! Lei permette? Fabiano Barba! Piacere! Mia moglie Barbara! Piacere mio! Donata e Rinaldo della Gerardesca! Molto piacere! Piacere! Salve! Mia figlia Samaritana! Piacere! E l'architetto Gianluigi Busirichigi! Piacere! Cristiano, le scarpe! Sono belle? Le ho prese a Roma in un negozio al centro! Prezzo stracciato ai massimi, commessi di categoria naturalmente! Divertente! Gli affetti sono belle! Però ora se me le vuol dare, le metto nella cesta con le altre! Ah, grazie! Sono troppo audace se la chiamo Fabiano! Ma per carità, caro Gardini! Il calzino! No, quindi se non ti dispiace mi direi! La sera al mare c'è umido e... C'è un buco! Oddio, ci ha rifatto l'allucione! Mi sono dimenticato di tagliarmi le unghie! C'ha certe zappe! La mia pedicura è una povera pazza! Uno champagne? Grazie Fabiano! Sì? Tua sorella Osanna, come sta? Come sta? Come sta? E come sta? Ma Osanna è sua cugina! Cristiano è figlio unico! Architetto è mia cugina! Che mi fai a domanda a trabocchetto? Sei fidanzato? No! Sono di gusti molto difficili! Per me deve essere da Carolina di Monaco in su! Allora mi sa che resterai signorino per un pezzo! Beh certo che se uno invece si accontenta da un bagnino in giù è più facile! Toccato Gianluigi! Mi dispiace! Ah Gianluigi, battuto a regolare! Sono professionista! E ora tutti a cambiarsi! E mi raccomando per cena vi voglio molte le gare! Io veramente sarei partito un po' sportivo! Canottiere e mutande! Che simpatico quest'architetto! A me i froci mi fanno ammazzare le risate!